Il calcio di punizione direttamente in porta Spurio non riesce ad arrivare sul pallone Il calcio di punizione direttamente in porta alla mezz'ora la sblocca la San Maurese Poi c'è dietro Bravo, bravo, bravo È buono Grazie 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 3 a 0, vince la San Maurese, è la seconda vittima dell'ultimo tempo la San Maurese, che quindi sale a quota 15, questo è il migliore della sua ragione, rimane a quota 18.